Questo programma contiene linguaggio volgare. Mentre il sole tramonta sulla villa, le celebrity non vedono l'ora di sapere di chi è il nuovo ex. La giornata di oggi in spiaggia è stata lunghissima, devastante e dolorosa. Ora sto tornando alla villa per dire al mio migliore amico ciò che ho visto e so per certo che gli spezzerò il cuore. Ehi, bei figaccioni! Che faccio? Di nuovo? Di nuovo. Oh, mamma mia! È l'ex di Lorena. Si chiama Patrick e è stata davvero dura. Sembrava una scena di Dear John all'ennesima potenza. Lei ha iniziato a singhiozzare e lo sguardo di Patrick le diceva mi sei mancata e ti amo. E le ha detto andremo a trovare tua nonna e voglio presentarti mia madre a Natale. Gli ha detto che vuole sposare. È il casino che mi aspettavo che fosse, magari anche peggio. Il legame tra di noi è unico e so che non lo proverà mai più per nessun altro. Gioia, amore, ho quasi pianto guardandoli. Lei gli ha detto che è un ragazzo, anche se ha detto non so cosa fare almeno un paio di volte. Non sono preoccupato che sia arrivato Patrick, sinceramente. Sono più preoccupato e in ansia per come si sentirà Lorena. Visto ciò che hanno detto David e Georgia. Non posso che vedere come andrà. Non ho mai visto niente di così intenso in prima persona. È il primo ex che arriva qui che mi ha davvero spezzato il cuore. No, non dire così. Joy, va tutto bene? Cavolo, sarà dura. Indipendentemente da tutto, stasera qualcuno avrà il cuore spezzato. No, non dire così.